Radio number one e dove vivi tu? Venerdì 14 febbraio, Marco Marzi al Carnevale di Caraglio, Cuneo, presso il Palazzetto dello Sport. Marco scarica al Befede di Savigliano, Cuneo. Sabato 15 febbraio, Mario J.B. e Tengel al Carnevale di Caraglio, Cuneo. Marco Marzi al Queen Forever di Torino. Marco scarica Little Italy di Borgo San Dalmazzo, Cuneo. Domenica 16 febbraio, Marco scarica e Marco Marzi al Carnevale di Caraglio, presso il Palazzetto dello Sport. Radio number one e dove vivi tu?